È un'idea che nasce circa 5 anni fa e 3 anni fa vede finalmente la luce. Dopo anni di studio finalmente riesco a fare delle eccellenze del mio territorio anche un veicolo nel campo della moda. Perché le eccellenze del mio territorio? Perché credo che la terra ci dia tanto e che altrettanto dovremmo fare noi con lei. Visto che negli ultimi tempi le abbiamo tolto veramente molto. Io utilizzo le eccellenze del mio territorio e in particolar modo lo zafferano dell'Aquila. È una colorazione totalmente naturale, priva di additivi chimici e rende il prodotto quasi un'edizione limitata. Infatti ogni prodotto viene diverso dall'altro perché non utilizzando additivi chimici che possano controllare la colorazione è lo zafferano, è il colore oro dello zafferano che comanda, che la fa da padrone. Io utilizzo la polvere di zafferano che è quella banalmente che utilizziamo in cucina. Dopo un pre-trattamento del prodotto l'oggetto viene messo a bagno nello zafferano in una miscela creata con lo zafferano, precedentemente creata, setacciata e lasciata riposare per alcuni giorni. Successivamente il colorante viene fissato in maniera totalmente naturale. Successivamente la polvere di Zafferano è una miscela creata con la polvere di Zafferano.